Export è motore della crescita toscana, è un convegno di cui si parla nella sede di Confindustria. Assessore Cioffo, ancora l'export è motore della crescita? La Toscana mantiene nella crisi un delta positivo rispetto alle altre regioni. Il sistema della piccola impresa toscana, il sistema diffuso e differenziato della nostra attività di impresa, ha retto perché ha mantenuto elevati, a tratti molto elevati, la fetta destinata all'export. Ecco, se potessimo fare una sorta di mappa sia geografica che settoriale? Questi anni la costa ha sofferto più del resto della Toscana e soprattutto, questo magari si dice meno, ma bisogna cominciare a interrogarci, l'area economica della costa più il bacino dell'Arno non sono tutta la Toscana. I numeri più forti, soprattutto per l'export extra UE, sono quelli del tessile. Tessile, moda, settore abbigliamento, alta gamma. Sono stati rilevantissimi i risultati del settore della pelletteria e c'è un segnale positivo marcato del settore orafo. Stanno ripartendo altri settori, sta ripartendo la nautica, sta ripartendo in virtù anche di riferimenti fiscali e impositivi di carattere nazionale che sono stati disastrosi in passato e che sono fortunatamente superati. Rimane una crisi che non vede prospettive a breve termine, quella del settore delle costruzioni. Grazie.